Ross è Batman Beh, è riuscito a tenere segreta la sua identità per molto tempo Rachel ha dato a Ross lo smoking che Val Kilmer indossava in Batman E Batman è molto più sexy di James Bond Ma che stai dicendo? 007 ha tutti quegli oggettini Batman ha una cintura multiuso 007 ha un auto stupendo E Batman ha la Batmobile 007 conquista tutte le donne E Batman ha Robin